Presidente della Regione Pierluigi Bersani è arrivato a Rimini per tenere a battesimo la più importante provincia turistica d'Italia. Ho visto che c'è una provincia che non è solo un cantiere aperto, ormai è un cantiere che è arrivato al tetto. E ho visto che ancora una volta, diciamo in Emilia Romagna, dirò così, succede una cosa che ci differenzia un po' dal resto del paese. La nuova provincia di Rimini entrerà in funzione nei primi mesi del 96. Intanto sono in corso tutti gli addempimenti necessari, primo fa tutti il problema dei trasferimenti delle risorse dalla Regione, quali quello della tassazione. Su questo tema il Presidente della provincia riminese Vichi ha proposto un tavolo regionale per la definizione dei complessi problemi normativi, organizzativi ed economici. Ai primi di dicembre Rimini ospiterà il primo incontro delle otto nuove province italiane. Nella visita di questa mattina Rimini, Bersani e la Giunta Provinciale hanno parlato anche di turismo, viabilità, con particolare riferimento alla statale 16 Adriatica, pianificazione territoriale. In pratica l'architettura della nuova provincia è già stata disegnata. Grazie a tutti.